Buongiorno a tutti, facile intuire dove siamo, mercatino di Natale in Piazza Valter a Bolzano, vogliamo tirare un bilancio con gli esercenti, quindi andiamo a chiedere a chi lavora qui come stanno andando queste prime due settimane di mercatino di Natale. Bilancio positivissimo, la gente è ritornata puntualmente all'appuntamento, tantissima gente il weekend del Sant'Ambrogio e continua a esserci gente anche durante la settimana, quindi trend veramente positivo. Positivo sia tra i turisti che tra i bolzanini? Grande piacere, l'arrivo anche dei bolzanini sempre di più ogni anno, quindi questo ci fa molto piacere e poi per il turista ormai è diventato un appuntamento fisso. Ma devo dire molto bene, ci sono tanti clienti, ci sono anche quelli svizzeri, ci sono tanti italiani e anche inglesi, quelli che ho visto. E i bolzanini? Bolzanini anche, quelli vengono sempre durante la settimana. E sono contenti anche loro, penso. Diciamo che stiamo lavorando molto bene, più del previsto. Sia con i turisti che con le persone di Bolzano? Con i turisti sicuramente, le persone di Bolzano sono sempre le solite più o meno che vengono, ormai sono anche loro clienti fissi. E se possiamo fare un paragone con l'anno scorso? Forse pelino in più, poco poco in più, se si può dire pelino. Guardi, abbiamo avuto un apprestamento dai bolzanini, direi molto più che dai turisti, perché è un prodotto diverso, quindi hanno apprestato moltissimo e proprio ci fa molto piacere. Poi ovviamente nel fine settimana, quando c'erano tutti i pullman così, c'è stato un discreto lavoro. Ovviamente quello anche dato dai turisti, insomma. Però durante la settimana sinceramente abbiamo avuto soddisfazioni più dai bolzanini. E' abbastanza bene, più o meno nella media degli altri anni. Sia tra i bolzanini sia con i turisti? E' più con turisti, se no non saprei. Anche durante la settimana sempre turisti o? Durante la settimana sì, c'è sempre turismo costante, bene o male, sì. Bene, non male. Non male, un bilancio generale sia tra i bolzanini che tra i turisti, ci racconti? Turisti bene, contenti, infelici, confusionari, aggressivi, molto dolci. Tra gli espositori, soddisfatti, insoddisfatti, va bene così. Rispetto all'anno scorso possiamo dire che sta andando meglio o peggio o uguale? Diciamo che è prematuro dirlo. I primi giorni non sono stati buoni. C'è stato un recupero nell'ultimo weekend e poi vedremo la fine. I morti si contano alla fine sempre.